Ok ragazzi, questa è la categoria Gold, una canna, hai vinti commenti, è vostro. Una carta scelta liberamente, poi l'otto di picche, facciamo un esempio. Carta mescolata, tutto mescolato ovviamente. Categoria Gold, un numero da un 52, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, questa è la settima, è la settima carta, è l'otto di picche. Categoria Gold, veramente interessante. La spiegazione hai vinti commenti.